Ha chiuso i battenti fino all'inizio del prossimo mese la scuola dell'infanzia di via Giorgini a San Vito. Motivo dell'improvvisa chiusura? La necessità di un intervento urgente di derattizzazione. Il personale scolastico martedì si è accorto che nelle aule e nel corridoio c'erano escrementi di topo, segno evidente della libera circolazione dei roditori nell'istituto. Il dirigente scolastico ha informato il comune che ha subito disposto la chiusura della scuola per consentire la derattizzazione. Sono circa 70 i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia di San Vito e che per qualche giorno non potranno tornare nelle loro aule. L'istituto potrà riaprire i battenti probabilmente lunedì 2 maggio.